Sono entrati in un appartamento abitonto con l'intento di rubare preziosi ed effetti personali, ma non hanno fatto i conti con alcuni zelanti vicini e il tempestivo arrivo dei carabinieri. Una chiamata anonima al 112, infatti, ha permesso di sventare un furto al primo piano di uno stabile che si trova in via Zuavo. I militari, supportati da agenti della polizia e dei vigili sono arrivati nella stradina, una traversa di via Traetta, con lampeggianti e sirene spente per sorprendere i malviventi. I ladri, in tre col volto coperto da un passamontagna, erano appena entrati in casa dal balcone dell'appartamento dopo aver utilizzato un pluviale per arrampicarsi. L'arrivo tempestivo dei carabinieri ha costretto i ladri alla fuga, riuscita però solo a due dei tre. Uno dei tre presunti ladri, infatti, è stato fermato dai militari vicino all'appartamento. I tre sarebbero arrivati a bordo di una lancia delta di colore nero, all'interno della quale sono stati trovati apparecchi Yammer utilizzati per disturbare le frequenze delle comunicazioni delle forze dell'ordine. L'auto, che è stata sequestrata, è risultata rubata e con targhe falsificate.